C'è della gente che non mi ama, che non mi stima e c'è della gente che invece mi vuole bene. Però non possono dire che non sono un professionista, perché sono uno che si prepara moltissimo, forse troppo. Io prima di cominciare un film ho imparato a memoria le battute mie di tutto il film e le battute di tutti gli altri attori. E quando arrivo sul set ho tutto il film in testa, che è una cosa che non fa nessuno, ma questo me l'ha insegnato mio padre.